Riepiloghiamo, c'è chi deve essere trattato subito, chi può aspettare. Il problema però è quanto si deve aspettare. È difficile fare previsioni su un tema così delicato. E risponde il professore Antonio Gasbarrini, che è il direttore della medicina interna, patologia e gastroenterologia del Policlinico Gemelli di Roma. Prego Antonio. Grazie. 20 minuti anche a te. Grazie a tutti, io ci metterò ancora meno perché potrei anche terminare dicendo a Ivan boh, non lo so, in realtà non lo sappiamo, Ivan lo sa bene, però. Permettetevi di ringraziare Ivan e di ringraziare tutti voi per fare questo tipo di evento. Io ho partecipato a vari eventi EPAC, però io credo che uno così bello, così strutturato, così serio, così ben condotto e ben guidato dal moderatore e dai relatori non mi era mai capitato di vederlo. Parlavo prima con Paolo Caraceni, che è segretario dell'AIF, perché dicevo che sarebbe bello avere un meeting nello stesso periodo dove fai l'educazione dei medici, dai la comunicazione dei dati ai pazienti e poi ti rapporti con le istituzioni, che sono i tre pezzi del tavolo. Perché il rischio, sapete qual è, è che se voi non avete un'informazione fatta in questo modo, attuale, fatta dagli spichi migliori che ci sono, in una buona setting organizzativo, la maggioranza di voi cosa fa? Dove la trova questa informazione? La trova in rete e in rete si trova di tutto, cose eccezionali e cose disastrose, false speranze, falsi miti. Credo che pertanto è assolutamente etico e corretto questo tipo di meeting. Tanto ritengo che sia sbagliato che si facciano dei meeting per i medici a cui partecipano i pazienti. Perché è chiaro che è completamente diverso anche il tipo di informazione che a volte ci si può scambiare. Tra medici e tra super specialisti si può anche affrontare un problema di un farmaco che magari non vedrà mai la luce, d'accordo? Per cui voi rischiereste di rimanere spiazzati. Questo è un vero esempio di ottima informazione. Un'altra cosa, permettetemi di fare un paragone, io sono un esperto anche di stomaco e di un batterio che si chiama Helicobacter pylori che ha rivoluzionato la gastroenterologia. Helicobacter pylori è un batterio che in qualche modo va eradicato dall'ulcera, dal cancro dello stomaco. Però si è anche visto che eradicare Helicobacter pylori con terapie antibiotiche importanti può essere pericoloso. Primo, perché quando voi fate una scarica di antibiotici demodulate il microbioma intestinale, cioè i batteri che stanno nell'intestino, questo potrebbe dare delle malattie nel futuro. Secondo, perché alcune meta-analisi dicono che se voi togliete Helicobacter pylori quando non è necessario, aumenta il rischio di esofagire da riflusso. Quindi, è un batterio che va tolto quando è necessario, a volte è meglio lasciarlo. Ok? L'epatite C, non dimentichiamoci mai, noi e voi, che nella realtà, per quello che mi risulta, questo sarebbe un dato interessante, non c'è nessun motivo di lasciare l'epatite C, non c'è nessun motivo che io sappia non protegge da malattie particolari, non riduce altre patologie, non è protettivo. Quindi è chiaro che partiamo da un presupposto, se possibile, l'infezione da virus C andrebbe eliminata in tutte le persone. Questo credo è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticarci, è vero tutto quello che abbiamo detto fino adesso, non dimenticatevi mai che tutto quello che diciamo di stop e altro è unicamente un problema di costi e eventualmente di effetti collaterali e di rischi. Ad oggi non c'è nessuna indicazione, nessuno studio che dica che questo virus va lasciato in qualcuno. Ok? Questo non dimentichiamocelo mai, perché l'obiettivo forse finale dovrebbe essere, quando avremo i farmaci giusti, eliminarlo in tutti quanti. Anche, per me, chi ha le malattie F0, per tutta una serie di motivazioni. Ma questo è per dire, perdonatemi, quando si dice non fumare, oh, mica tutti i fumatori si fanno il tumore del polmono e la bronchite. Però, con un messaggio semplice, togliamo un qualche cosa che forse qualcosa di male fa tutti. Questa è la logica. Allora, quando, pertanto, alla luce di tutto quello che ho detto, quando saranno disponibili e in qualche modo ce li potremo permettere questi farmaci? Io vi faccio questa diapositiva, che è una diapositiva che non so da chi proveniva, proveniva probabilmente da qualcuno di voi o qualcuno della letteratura, che vi faceva vedere questa progressione delle terapie che noi abbiamo avuto nel tempo e l'efficacia di queste terapie. Concentratevi unicamente sugli anni, d'accordo? Quindi è chiaro che tra il 2011, cioè l'arrivo degli antivirali di prima generazione combinati a interferone pigilato e i nuovi antivirali senza interferone, vedete che c'era inizialmente una previsione di 3-4 anni. Quindi, secondo una diapositiva del genere, noi avremmo dovuto avere nel 2015 disponibili farmaci antivirali senza interferone che con un breve ciclo di terapia eliminavano il virus nella maggioranza dei soggetti. È questo vero? È quello che voi vi potete aspettare? Ed è poi la realtà per tutti? O rimane solo un numerino bello messo lì sulle diapositive che spesso può creare false speranze. Beh, innanzitutto, rimaniamo, questo è un concetto fondamentale, prima generazione di antivirali, 2011-2013, ad oggi si sta aspettando una seconda generazione di antivirali che però, attenzione, come avete visto prima, non è che spazzavia elimina la prima classe di antivirali perché rimarranno una opzione terapeutica sicuramente in molte regioni per molto tempo, anche per motivazione di costo. Che cosa ci aspettiamo da questi regimi? Io non ne parlo perché ne ha parlato bene Massimo, ma uso questi dati delle SLD del 2012 e ne avremo un'altra scaterva tra dieci giorni con le SLD del 2013 che cominceranno a girare in rete. Questi sono dati che io non ho preso da qualcuno, li ho tirati fuori in rete. Se voi battete i nomi di questi farmaci, si arriva con la rete a questa diapositiva, io mi sto mettendo dalla parte di un paziente che guarda questo in rete, vedo, accidenti, due farmaci non cirrotici G1, 100% di efficacia, perfetto quando arriva. La Vietor, tre farmaci, insomma tra l'80 e il 100% di efficacia, quando arriva, perché non lo posso fare io. Questo da Clatavis o Fosbuvir, guardate, 100% di efficacia all'incirca, beh allora quando arriva. Sono queste le domande che si fa un paziente. Questo da Clatavis o Fosbuvir 100%, 93% di efficacia. Cioè veramente viene da dire a Ivan e a tutti i pazienti, ma perché noi non li possiamo avere? Perché le aziende non ce li danno? Qual è il motivo? Che cosa c'è dietro? È tutto un problema dello Stato italiano, dell'AIFA, delle regioni o no? Attenzione, io ora faccio l'avvocato dall'altra parte, no, non è solo un problema delle agenzie regolatorie. Questi sono tutti studi scaricati dalla rete, d'accordo? Allora, che cosa vi dovete aspettare e quando arriveranno? Quando potrete applicare quello che Massimo vi ha detto con le regole che cambieranno poi che Stefano vi ha mostrato? Allora, vi devo fare, e dovete beccarvi questa pappardella di pochissime diapositive, come avviene lo sviluppo di un farmaco? Perché se siete pazienti, siete cittadini, questi concetti li dovete avere. Allora, innanzitutto un farmaco deve partire da un concetto, d'accordo? Plausibilità biologica, d'accordo? Deve esserci un motivo, ok? E sicurezza per la persona e efficacia sulla persona. Allora, innanzitutto un farmaco parte da uno studio in vivo, in vitro e in vivo, purtroppo, purtroppo su animali, qui entriamo in un macromondo che io non ho certo la competenza e neanche l'etica per affrontarlo, però lo dovete sapere che molti di questi studi sono valutati anche sugli animali in fase iniziale, ok? Perché come avete visto e chi frequenta le patologie da tempo sa che alcuni di questi possono anche determinare la morte delle persone, sono farmaci molto potenti. Poi vi è una fase sull'uomo e vi devo dire anche qua, c'è tutto un dato etico, calcolate che gli studi di fase 1 di sicurezza sono fatti su uomini sani e spesso gli uomini sani sono pagati per farsi su di loro lo studio di sicurezza e ci sono alcuni studi di fase 1 dove volontari sani sono morti per testare la sicurezza di un farmaco. Questo è un macromondo di HIV, sull'HCV, su tutti i farmaci chemioterapici per i tumori, cioè non dimentichiamocelo mai che cosa c'è dietro tutto questo mondo. Quindi la fase 1 è la sicurezza sull'uomo, si valutano le dosi, l'efficacia, tante cose diverse, la durata del trattamento. Poi dopo questo arriva una fase 2. La fase 2, una volta che c'è la plausibilità, una volta che si è visto che è sicuro, sul sano, si comincia ad andare sui malati, che sono nel caso delle patopatiche, soprattutto del cirrotico, malati molto particolari, dove la sicurezza del sano mica è dimostrata e allora spesso vanno fatti dei fasi 1 o 2 dove provi la sicurezza sul malato. E questo purtroppo è spesso fatto, in Italia noi li facciamo poco questi studi, forse per fortuna per i pazienti, ma è spesso fatto su dei pazienti che si cuccano e calcolate che ci sono delle cose che dobbiamo sapere, anche tristi in qualche modo. Sapete chi sono i pazienti che più spesso fanno i fasi 1 o 2? Cioè sicurezza in un malato cirrotico con epatite? Sono soggetti pagati negli Stati Uniti, dove si può pagare un soggetto per una sperimentazione, o soggetti che vengono arruolati nei paesi dell'Est, dove loro tanto non avrebbero farmaci e gli fate un farmaco, con un enorme rischio che quel farmaco non è sicuro e non gli serve a niente nella malattia. Cioè dovete saperle queste cose, perché così ragionate anche su che cosa dicono quei trial e quei numeri di efficacia. Poi quella fase 2 è quella dove cominciamo, abbiamo una plausibilità, sono sicuri, vado sul malato. Questi sono la maggioranza degli studi che piacciono ai giornalisti e sono la maggioranza degli studi che vedete quando finisce un ASLD, Società Americana di Epatologia, alla fine di un AISF, alla fine di un EASL. Cioè quegli studi che vi ho fatto vedere prima sono quasi sempre degli studi di fase seconda, dove si è dimostrata l'efficacia di un farmaco in un piccolo numero di pazienti. In quel piccolo numero di pazienti non è detto che poi su grandi popolazioni quei dati vi confermeno quel 100% di eradicazione, ma soprattutto non è detto che in un numero più grande siano sicuri. Tanti studi hanno passato alla fase 2, sembravano dei miracoli, in fase 3 hanno fatto una marea di morti e gli studi li hanno dovuti chiudere. Per cui grande, grande criticità a valutare quelle belle diapositive è grande importanza di questo tipo di simposi indirizzati a voi che vi dicono di quegli studi stratosferici cosa vi dovete portare a casa e cosa veramente vi dovete aspettare. Anche perché non essere presi in giro spesso da notizie giornalistiche che sono esplosive, ma in realtà non hanno un'applicabilità della pratica clinica. Dopo ci sono gli studi di fase 3. Gli studi di fase 3 sono i più importanti. Sono i cosiddetti studi di fase 3 pivotali o studi di registrazione. Sono quelli che servono a portare un farmaco a una nuova terapia a un'agenzia regolatoria. Questi sono studi che devono confermare sul numero adeguato di pazienti l'efficacia, la sicurezza e la durata dei trattamenti individuati prima. Nello specifico, nel paziente cirrotico, di studi di fase 3 ne esistono di vario tipo. Quelli fatti sui pazienti naive, vi ha fatto vedere Massimo, che dati che registrativi su sofosbuvir sono fatti sul paziente naive che non ha mai avuto un trattamento, ma lo studio registrativo va rifatto su chi il trattamento l'aveva già avuto, perché non è uguale, va rifatto sul paziente cirrotico. Spesso sui pazienti cirrotici si usano delle mezze cose. Le aziende che sono furbissime, ma io le capisco anche perché in fase 3 costa milioni e milioni di euro, cosa fanno? Fanno un bel registrativo, ci mettono un piccolo numero di pazienti cirrotici dentro, il genere il 10-15% dei soggetti, che è un numerino magico. Perché? Perché se è efficace, poi dicono che quel 10% l'ha fatto anche nei cirrotici, perfetto, registriamo anche per loro. Se i cirrotici muoiono, dicono erano cirrotici, vanno drop out e registrano sugli epatopatici. Quindi non è casuale che dice un 15% di cirrotici nei registrativi di fase 3, ok? Però detto è per farvi capire, dovete capire tutto, tutto dovete capire. E poi ci sono degli studi dei coinfetti, è chiaro, quelli hanno bisogno di altri studi ancora, va bene? Ok, cosa succede dopo che un'azienda fa un registrativo? Finisce lo studio di fase 3, facciamo l'esempio di Sofosbovir, viene pubblicato lo studio, spesso lo studio è discusso con l'agenzia regolatrice. L'EMA ancora non li discute gli studi, ma l'agenzia americana del farmaco, quando un'azienda vuole fare un fase 3, lo discute con lei, è l'FDA che spesso dice come va disegnato lo studio, ok? Se poi vogliono registrare quel farmaco per l'uso nei malati. Siamo arrivati allo studio di fase 3, che deve avere dei dati a questo punto, pubblicati o perlomeno discussi con l'agenzia. L'azienda farmaceutica sottomette all'agenzia regolatoria. In America c'è l'FDA, in Europa c'è l'EMA, l'agenzia europea del farmaco, ha sede a Londra, d'accordo? E questi sono i tempi dell'EMA. Loro submission day a time zero, questi sono tempi bloccati. A differenza dell'Italia, l'EMA vuole garantire le aziende, per garantire poi i cittadini e i pazienti, dicendo dal momento in cui sottomessono i tempi sono bloccati, questi sono, c'è un schedule clock molto secco. Vedete, ci vogliono 20 giorni per istruire la pratica. Poi l'azienda nomina, l'agenzia nomina un rapporteur e un co-rapporteur, che vuol dire un membro, un esperto di uno stato membro che si prende la pratica in mano e ne sceglie un altro. Un esempio, rapporteur e co-rapporteur di Simè Previr sono la Svezia rapporteur, l'Italia co-rapporteur, d'accordo? Poi loro si cominciano a discutere, si trovano tra loro, rapporteur e co-rapporteur, fanno vari incontri a Londra a tempi bloccati, questi sono i tempi stabiliti. Pensate che lavoro c'è dietro, anche per degli esperti che devono discutere, andare a valutare, d'accordo? Tutti esperti che non possono avere nessun conflitto di interesse, d'accordo? Io conosco molto bene il co-rapporteur per l'Italia di Simè Previr, ma chi gliel'avesse mai fatto? Non può più andare a un congresso, non può più avere un rapporto con un'azienda, non può più parlare a un congresso dove ci sono degli sponsor, qui non potrebbe venire a parlare un co-rapporteur. Quindi l'incredibile è che quelli che giudicano non possono andare più da nessuna parte, è una cosa quasi strana e surreale, non è da augurarla a nessuno. Fatto sta che tutti, vedete questi passaggi? Dopo 120 giorni l'EMA deve dare un parere, ok? Seconda fase, il parere non sarà mai perfetto, a meno che non avete un farmaco meraviglioso fatto perfettamente, poi è chiaro che l'azienda prova ad avere più indicazioni possibili, no? Caso di sofosbuvir vorrebbe avere tutti i pazienti cirrotici, coinfetti, è chiaro che poi per tutelare i pazienti, ok? Cioè tu sei un coinfetto, lo studio registrativo non li aveva, io prima di dire che lo puoi fare voglio essere sicuro che è sicuro per il coinfetto con l'HIV, questa è la logica dell'agenzia. E quindi l'azienda risponde a un tempo per rispondere, il tempo anche qui è clock, 60 giorni, siamo a 120 più 60, siamo già a 180 giorni bloccati, sei mesi di tempo da quando è finito un registrativo a questi passaggi dell'EMA. Andando avanti ci potrebbe essere una terza fase, o all'EMA vanno bene quelle risposte dell'azienda o come spesso accade non gli vanno bene e comincia un'altra fase di contraddittorio bloccata nel tempo, terza fase, altri 30 giorni, 120, 60, 30, siamo a 210 giorni, sono sette mesi, ok? Se Sofosbuvir ha fatto il registrativo a aprile, dico Sofosbuvir ma non mi importa nulla, qualsiasi nuova generazione interferon free, è chiaro che voi non vi potete aspettare il parere di EMA, impossibile, prima di sette mesi, ok? Quindi se era marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, ottobre, fine novembre, verosimile che EMA darà il suo parere su Sofosbuvir. Autorizzazione dell'EMA e indicazioni chi lo può usare. Bene, il farmaco arriva in Italia? Beh, l'Italia no, perché l'Italia ha un'altra agenzia, d'accordo? Che si chiama agenzia italiana del farmaco, che però ha un doppio ruolo, che non dimenticatelo, perché siamo tutti anche cittadini. L'Italia è un paese che avrà tanti difetti, ma c'ha una grande forza, c'ha un sistema sanitario strepitoso, che si tenta di scardinare in qualche modo, però è un sistema sanitario incredibile, di grande tutela per il singolo e per l'individuo, per ora. Questo sistema sanitario deve essere controllato da qualcuno. Chi lo controlla? Beh, l'AIFA è un grande controllore e in particolare valuta se quel farmaco, non può valutare se è giusto darlo, quello lo fa l'EMA, non può farlo l'AIFA. L'AIFA può dire qual è il prezzo di quel farmaco, chiaro? E quanto il Servizio Sanitario Nazionale può essere disposto a pagare per quel farmaco, ok? Quindi questo è importante, l'AIFA non è una roba solo contro di noi, l'AIFA è un garante che il prezzo che va a pagare lo Stato italiano è congruo per quello che ti aspetti da quel farmaco. Quindi c'è una commissione tecnica che valuta un po' questa cosa, ma in realtà c'è poco da dire, cosa vuoi che valuti, l'ha già fatto l'EMA molto bene, ma soprattutto il vero ruolo dell'AIFA è quello di valutare qual è il prezzo congruo per il nostro Paese. Perché la casa farmaceutica fa un prezzo, d'accordo? E dice per me il prezzo giusto è 50.000 euro a ciclo di trattamento, l'AIFA può dire, per me il prezzo giusto per l'Italia, che ha un milione e mezzo di malati, che ha pa pa pa, non è 45, è 35.000. Quel prezzo potrebbe essere giusto per l'Islanda, che ha 100 pazienti in tutto, per cui io vado a... voi comprate, voi aziende, è come una macchina, no? Ma scusate, se l'Italia compra 10.000 Mercedes e l'Islanda ne compra 5, può la Mercedes fare lo stesso prezzo ai due Paesi? No, d'accordo? L'azienda però, che ha dei problemi, sono delle multinazionali e hanno rischio, paura di fare mercato parallelo di farmaci, compro in Italia, vendo in Islanda, cosa dice? Non è contenta di questi prezzi diversi, però diciamo che lo Stato italiano entra nel merito del prezzo. Ma non è così facile, perché dire che un prezzo è adeguato implica tutta una nuova area della medicina, che nessuno di noi ha mai studiato, che i farmaco economisti hanno scominciato a studiare, credo, pochi anni fa, gli esperti dei quali saranno 10 in tutta Italia, che è la valutazione di costo efficacia sulla base dell'El Technology Assessment. Cos'è l'El Technology Assessment? È un qualche cosa che dice che quel farmaco previene quella malattia, che previene la morte, ma che ad esempio previene i costi sociali, la perdita del lavoro, il fatto che qualcuno debba accompagnare un cirrotico a fare degli esami, tante cose, questa è la costa efficace. Inoltre l'agenzia del farmaco, una volta che contratta il prezzo, ha tutela di se stessa, spesso mette dei giochini con le aziende che ci fanno risparmiare. Uno di questi si chiama Payback. Cosa vuol dire? Io ti do questo farmaco a 50.000 euro, mi va bene, però tutti i pazienti in cui è inefficace il farmaco, quel famoso 15, 20, 30%, tu mi ridai i soldi azienda, perché se io non me lo piglio il rischio di pagarti un farmaco che non funziona. E questa è una metodica molto interessante, spesso usata sui farmaci per i tumori, che è una metodica intelligente per un paese. Beh, quanto ci ha messo l'AIFA a fare tutto questo giochino da quando l'EMA ha approvato fino ad avere un prezzo? Ci ha messo, quanto Ivan? più di 12 mesi forse, 16, ci ha messo 16 mesi. Questo è inaccettabile, questo è inaccettabile, perché l'EMA vi dà la garanzia di tempi fissi a tutela delle aziende e dei singoli. L'AIFA non ha dato, d'accordo, tutela del tempo fisso. E se un farmaco ha l'indicazione, il problema è il prezzo. Ragazzi, a trovare il prezzo giusto, voi AIFA ci mettete un mese, 15 giorni, due settimane, sei settimane, però me lo date, perché quel farmaco, come in questo caso, salva la vita alle persone. Questo è inaccettabile. Sapete perché l'AIFA, questa è l'Italia, un paese di puffi, perché l'AIFA ci ha messo 16 mesi a dare il parere? Perché non avevamo la CTS, cioè il governo non nominava la commissione tecnica, perché dato che una nomina anche forse politica, non si mettevano d'accordo. Quindi è questo che del nostro Paese va cambiato, e va cambiato tutti insieme. Vi devo dire che un ruolo fondamentale avete avuto voi pazienti nella, alla fine, accelerare questo processo. Il lavoro di Ivan, a cui vi prego di fare un applauso, è stato incredibile. L'Italia però a volte tira sulla testa, e ci sono stati anche dei bravi amministratori, e non è che sono tutti fessi gli italiani o tutti disonesti, anzi gli italiani sono penso molto furbi. Questo è il decreto Balduzzi, che è veramente innovativo e questo entrerà pari pari con i nuovi farmaci. Il decreto Balduzzi, Balduzzi avrà avuto dei difetti, però è stato un ottimo per me Ministro della Sanità, perché conosceva molto bene la sanità. E questo decreto credo che è stato una delle cose più belle che i Ministri della Sanità hanno fatto, imponendo una corsia preferenziale bloccata per i farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica, quelli che salvano le vite. Questo decreto, che cosa ha detto? Che dal momento della presentazione alla fine del processo non possono passare più di cento giorni. Questo vuol dire che i nuovi farmaci che voi vedrete hanno cento giorni per avere un prezzo e essere sul mercato, e questa è una grande garanzia. Sono tre mesi e non sono più i 16 mesi di Boceprevir e Telaprovir. Allora, l'ultima cosa, la dovete sapere, l'avete vissuta, in Italia non finisce, perché l'Italia poi vuole dare un po' a tutti. Le regioni rivalutano se il farmaco che l'AIFA approvato può essere usato nella sua regione, qual è il piano terapeutico e possono anche mettere delle limitazioni, d'accordo? Però, insomma, diciamo che anche le regioni lo fanno con una logica corretta, vogliono controllare il budget, però diciamo che se questo processo, questo forse l'Ivan si potrebbe lavorare, come nel decreto Balduzzi, dovesse essere effettuato in 60 giorni, questa è una cosa interessante da proporre alla Stato-Regioni, anche qui è chiaro che ogni regione ha un PDTA, ma non meravigliamoci, è chiaro che la Val d'Aosta, che ha una bassa incidenza, sarà più facile per lei trattare dei pazienti rispetto alla Sicilia, dove il 6, 7, 8% dei pazienti è infetto, perlomeno organizzare gli ambulatori, però devono avere tempi bloccati, in modo che questo è a tutela di tutti. Quindi, ultime tre diapositive, ecco il tempo, ecco i tempi che voi vi aspettate, se tutto funziona come abbiamo detto. Questi sono i tempi dei primi due, Sofosbuvir e Simeprevir, sono attualmente in questa fase in EMA, hanno fatto il primo dei 120 giorni, attualmente sono in mano ai rapporter e ai co-rapporter, di questo il co-rapporter è un italiano, di questo sono entrambi stranieri, uno è la Spagna, l'altro è la Svezia. Questi farmaci devono avere o 60 o 30, non si sa se andranno ai più 30, poi vanno in AIFA, quindi diciamo che tra novembre e gennaio questi farmaci potrebbero essere approvati da EMA. I NAI fanno al massimo 100 giorni, per cui diciamo febbraio, marzo, aprile, è verosimile che per giugno, non lo so, questa è una previsione possibile, giugno-dicembre, diciamo, non so i blocchi quali saranno, possono essere sul mercato, ma attenzione sul mercato, poi ci sono le regioni. Qua le regioni avranno un problema mica da poco, perché dipende qual è il prezzo con cui vanno sul mercato. Le regioni potrebbero non avere, in alcuni casi, pensate alla regione Lazio, che in questo momento è commissariata, potrebbero non avere i soldi per coprire questi farmaci. Come sono messi gli altri? Faldaprevir non è ancora stato sottomesso, lo stanno per sottomettere ora, e questi sono gli altri. Perciò quei bellissimi dati che Massimo vi ha fatto vedere prima, ok, sono bellissimi, ma quando arriveranno sul mercato? Perché questi tempi non sono anticipabili, in nessun modo, d'accordo? Questa è una previsione che io ho fatto, che non so se possa essere corretta, per averli non in AIFA, non nelle regioni, ma nei nostri ambulatori. Ultimo trimestre 2014, primo 2015, sofospovir, simeprevir, e per gli altri, questo può essere una stima, terzo 2015, secondo 2016. Per cui, per avere i farmaci interferon free sul mercato, i primi probabilmente li avremo all'inizio del 2015, e gli altri più avanti. Cosa vuol dire interferon free e cosa, Maurizio Massimo, questo forse ci potrebbe fare un po' di stranezza. Attenzione, ci potrebbe essere un trucchetto non da poco. Sofospovir approva sul genotipo 1, che è il grande problema, in associazione con interferon a ribavirina. Quindi, sulla carta, le agenzie europee dovrebbero approvare sofospovir in associazione con interferon a ribavirina. Per quello che ne so io, per quello che ne so, se questo può contare, approveranno tutti e due in associazione ad altri virali, senza specificare con cosa. Questo vuol dire che è possibile cominciare a usare le associazioni senza interferone, prima di studi registrativi che l'abbiano dimostrato che si può fare sul genotipo 1. Però questo, vi devo dire, credo, non so dirvi se è una cosa buona o cattiva, non lo so, potrebbe essere sulle resistenze un problemino non da poco, però diciamo, è per dirvi che se noi ci dovessimo chiudere all'indicazione clinica dei fase 3, non vedreste nessun interferon free prima del 2016. Io credo che invece li vedremo per me alla fine del 2014 nei nostri ambulatori. Vi ringrazio dell'attenzione.